Buonasera cari amici, bentrovati di nuovo insieme con Confagricoltura News, vado subito a introdurre e salutare l'ospite di questa puntata, Nicola Artoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura Mantua. Ciao Nicola, bentrovato. Ciao Andrea, grazie. Allora, torniamo a parlare, direi dopo un po' di tempo, un po' che non ne parliamo, di ITS agroalimentare, che sappiamo insomma essere un po' un fiore all'occhiello per una cosa importante per Confagricoltura e nello specifico ci riallacciamo a questo Open Day che c'è stato pochi giorni fa presso la vostra sede, un modo insomma per introdurre il nuovo anno. Esattamente, diciamo che come ogni istituto scolastico, appunto anche l'ITS agroalimentare ha organizzato tutta una serie di Open Day, volte appunto a presentare i corsi per l'annata 2024-2025, che partirà appunto nel prossimo mese di, tra settembre e ottobre mi verrebbe da dire. Abbiamo avuto un Open Day anche noi presso la nostra sede e è stata l'occasione per presentare ancora una volta la grande potenzialità dei corsi ITS. Ricordiamo che è un corso biennale post-diploma, quindi riservato agli studenti in uscita dalle scuole superiori o anche a coloro che adesso magari anche qualche anno in più ma che volessero intraprendere un nuovo percorso di studi. Sono tre in particolare i percorsi che l'ITS agroalimentare di Mantua propone. Il primo è quello appunto per la Digital and Green Transition, quindi assolutamente argomenti attualissimi per quanto riguarda la filiera agroalimentare, percorso biennale presso la sede di Mantua. Il secondo è quello in tecnico superiore per la Food Supply Chain, anche in questo caso percorso biennale sempre a Mantua. Il terzo percorso invece è quello in Food and Digital Marketing, quindi anche qui naturalmente rami sempre più sviluppati negli ultimi anni. Sempre a pezzo, sempre a poi, che guardano al futuro, che è una cosa positiva. Assolutamente, assolutamente. In questo caso la durata è sempre biennale, ma in questo caso i corsi saranno suddivisi tra la sede di Mantua e la sede di Milano, perché l'ITS ha anche una sede milanese attiva da poco. Insomma, quindi chiunque fosse interessato, per chiudere questa panoramica, chiunque fosse interessato a prendere informazioni o direttamente ad iscriversi ai nuovi corsi dell'ITS agroalimentare sostenibile di Mantua, può contattare la sede con la mail segreteria-itsagroalimentaremn.it oppure chiamandolo 0376 23 43 59. e la segreteria saprà darvi tutte le informazioni per quanto riguarda le iscrizioni e le potenzialità dei corsi ITS. Perfetto, diciamo per chi si è perso l'open day. Esatto, mettiamola così. Grazie a Nicola Artoni per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito e arrivederci a presto. Grazie a Nicola Artoni per essere stato con noi, grazie a tutti.